e salve a tutti amici coperiani e bentornati in questo nuovissimo video dopo due tre mesi quanto era passato eh signori un periodaccio però mi hanno dato la chiave di Cernobilite e ho detto vabbè dai perché no nel mentre cerco di creare qualche videozzo con le clip di Valorant di Tarkov e di qualche altro giochino che ho qualche clip facciamo questo video su Cernobilite vediamo com'è tutti ne parlano bene quindi sembra una figata e boh vediamo non ho visto video credo di aver visto tipo un secondo perché quando ho aperto un negozio di Steam era apparsa la live comunque prima di iniziare vi ricordo che in descrizione trovate il link per il codice sconto di Gportal quindi grazie Gportal che ci supporta sempre nonostante i tempi di inattività e grazie comunque ai sviluppatori per avermi dato la chiavettina di Cernobilite e spero anche l'audio microfono e gioco siano giusti ho fatto un test l'ho alzato un pochettino e vedremo 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 non so mai come gestirmi però i volumi dell'audio e quindi niente facciamo direttamente nuova partita e nulla va bene medio medio per me tutto medio e va bene grazie a tutti grazie a tutti Inquietutile la bambola Per alcuni tratti mi sembra di vedere metro, non so perché Allora a me sembra vedere dalla preview di OBS E che stattera come il problema dell'ultimo video di Insurgency Eh sì Quindi facciamo finire questo video e voglio provare una cosa Allora giornalino non c'è niente Ok ho aumentato un pochettino anche la cosa Allora chissà se stattera ancora OBS Sto guardando il gioco dallo schermo di OBS per capire Ma non sembra, sembra E' anche più piccolo Signorina aspetti Signorina sento le radiazioni Signorina Porca madosca la tua mamma quella bella signorina Ma vaffanculo Puttana Eva Quella mignottona che paura Si corre E' anche più piccola Siamo in russi e ti spano una k in mano così Sims legit Ora che mi spana, ah mi spana da un'altra parte Ehm Non c'è E' anche più piccolo Cos'è Per me cosa avvicinato? Attaccato una volta di per scrivere Uh, devo per forza ammirare, non posso sparare senza ammirare, alimor, tacchietula Ehi, la madonna Devo scendere o no? Ecco, noi siamo ineluttabili Thanos Thanos ITC Ok, si può craftare, interesting, interesting Parti alle tue Eh, no, sono rinchiuso Qui dentro però diciamo che in questo sogno sottoacidi ho un po' visto cose strane, sì, devo ammetterlo Non lo nego Ora che ho trovato qualche parte Generatore, ah, generatore di portali Un aggeggio molto sofisticato malgrado l'aspetto ingombrante Un'attrezzo di alta tecnologia che sfrutta la cernobilite per creare dei wormhole stabili Parti elettroniche Ne serve una, teoricamente la dovrei trovare qui da qualche parte Anche se non mi dice che devo fare Parti meccaniche Parti è un'attrezzo di più Parti 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 mhm ok questa è sotto forma da Sotto la città, eh? Oliviar Anton Anton è pure qui Aspettare Lo che ci sono Ci sono Spero Ci sono Cosa Cosa Noi Siamo Cosa Vaggier Vaggier Si Vaggier 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 Cosa 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 Vaggier 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 I better Animo Animo Vaggier 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 Cosa Vaggier Che sei Tu ti ho pensato? Se si appresenta di farlo Se dicci ora No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sì gentile dai Noi siamo gentili La bussola nella parte Persona di importante Mi trovo a tenere la docca in casa Ma no quando ti sdrai Non è che si abbassa Resta nell'ombra stai nividimicai devo passare da qui? rimane un girato di spalle vero? e? e? mi vedrà? e? oh che fai? nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Alimentaro I e equipaggio E1 3, 6, sì, non è vero, ma non è vero Eh, Tatiana, state zitta Eh, sì, credo di Si va, si volà Tra l'altro l'immagine di Igor sembra Stitch di Di Cod Tra l'altro L'arma senza un ironsight Niente Wopla Posso andare di qua a farmi cazzi mia? Eh, beh, certo che sì Eh, visto che si fa bene a farsi cazzi Cioè, mentre gioco non riesco a leggere bene i sottotitoli, mannaggia Però è bello a Berlino russa, tanto c'è inglese o russa Usa per mettere un'onda radar con un'onda-dora in interna 0 Cioè, questa è la storia di Cerno, cioè della centrale praticamente Cioè, questo è un'onda-dora All'arma a me Cicolato poco, eh, quella porta, dicevano Io gli tiro questo in testa Eh, che cazzo devo fare? Che stesse per eliminare quella guardia? Eh, che cazzo devo fare? Non ho un'arma, porca troia Gondolella guardia È un attacco corpo a corpo Ehi, un petto di merda Vieni qua Eccoci qua Eh si, hanno presa pari pari Dalla serie tv Mantissimo Posso entrare qui? Ehi, no? Non premere il pulsante e inventati una scusa Premo il pulsante Dunque vada non interferirà con il mio piano Premo il pulsante Non mi interessa lo dice Tatiana Fanculo Fanculo le donne Non mi interessa quello che dice Faccio quello che devo fare con i miei amici Ehi, ma sono schizzati via Eccoci, eccoci No, non sta diventando pazzi Ehi, non mi interessa Si, non mi interessa Non mi interessa Cosa 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 Ok Ah che c***o oltre le mani queste cose tu hai già visto prima cosa? il fragmento è un po' meno meno, ma per l'inizio della scuola mi è abbastanza potete raccontare come funziona questa tua scuola? c'è una scuola all'interno e il tempo c'è un'altra metterla in tasca il pulsante ma ma nemico fatto di cernobilite ciao inficcati dentro ciao guardatela mi conosce o conosce tatiana cose strane manco oliver rosa oh ciao lo fermo ma quello se la mangia a colazione la cernobilite non era così e tanto più avanti ci sarà un momento in cui quello ci inseguirà dentro a un wormwood si è sparato mi ha già dato un bacino io anton obiettivi alice la la porticina bastardo maio nangia la porticina tutta mia oh ecco questo posto era più quello di prima è come una sveglia che razza razza spraffa la pelle che con te ti dovrai ancora studiare la prima di possedere la prima di possedere singolari il calcio e' poter quando cazzo vado questa da qua condizioni e si che orco boia Volevo per accendere lo spangelo Sorcia l'inchia V di sorcia Ali mortacci De pippo Non volevo giocare Mica un horror Porca droia Ciao A essere amico Una volta abbiamo vargato così tratto Non ti posso ricordarmi Andiamo Tatiana Di nuovo modo per riferire Scusate il riferimento di radia Scusate per metterlo Una riferimento di radia Un'altra riferimento di radia No Sostavia per essere Edith Kalea, DTPI, Berlinsca e Lazuri Scusate per riferimento di radia No, la comoda prende un farm o andate all'inventare per ridurre, ok. Ah, ah, ah. Tiè, ora posso andare. Yeah. Pocca. Andiamo. Eh, usa RT e seleziona erbe. Ok, ok, quindi. Erbe, 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 erbe. Yeah. Allora, funghetti. Ervine. Er, arti meccaniche. Er, 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 trovo un falloio per creare una pomada curativa. Cioè, ora non ho capito se allora Tatiana mi aiuta o dice cazzate perché è brutta, porta in posti strani, mi fa paura. Eccoci qua. Inizio a produrre un vento anti-radiazioni curativo. Facciamo un po' anti-radiazioni che serve. Erbe e sostanze chimiche, vai. A boi. A boomba. Ok. Interessante questa meccanichina. A boi. E' becetto! Ho già fatto le mie erbette No Ho fatto le mie erbette Forca croia Usarla Va bene A posto Grande Guarda qui Può che questo chlam Questo è la tua stichia, bella È il tempo di realizzare l'accordo Un po' si Mentre la costruzione puoi Contrasionare le strutture costruite in precedenza Smantellare per recuperare i materiali Premendo T Fai pratica con i rottami presenti in giro E' fallout, porca troia E' fiera Che ti fai il tuo hideout Tarkov intensifies Nikita dove sei? Quando servi? Nikita? Andiamo Ok Premi B Prezzare la ricostruzione della tua base Quindi Fabricabile Ora costruisce manco da lavoro Questa struttura Basilarti da accesso a strutture più avanzate Per selezionare un miglioramento della base Premiare per mostrare i contenuti E poi remedi l'azione con attrezzi da costruzione Quindi Guardati intorno mentre cammini Ok Io direi che Dove lo facciamo signori? Un punto tattico Dove non ci scassa la minchia Oh Lo metterei qua Ho sbagliato F F Hai bloccato l'abilità di costruire strutture primitive Non esitare e esaminarle Ogni giorno avrai l'opportunità di tornare alla base E di espandere ulteriormente Tutto ciò di cui hai bisogno E una quantità sufficiente di materiali Quando sei pronto Stata approcciare una nuova costruzione Quindi l'abilità di costruire strutture primitive Ok qui serve roba Macchina da taglio laser Ehm Ah qui un letto eccetera Servono funghi ed erbe Ok Va bene Andiamo da Il mio amichetto E sentiamo che c'ha da dire Bah Non credo adesso Ah lo sappiamo bene Non lo sappiamo Non capisci l'amore Dighi che Tatiana non può aspettare Ma vaffa al culo Tatiana Si Tu sei per lo sabes Ero que tu esi Non si vedi questa canale Questa è la santa La uscela per fare Sì La uscela per la planificazione Sc bleibt Per vedere se Che vuoi E cosa vuoi Chessereth Anche la risposta Le informazioni La uscela La uscela La uscela La uscela Per fare La uscela Per Ok. Certo. Nikita insegna. No, allora sei preparato. Io credo a te, Igor. Grazie! Yes! Più, più, più! Perfetto! Binocolo... Vogue! Ogni giorno comincia con una pianificazione. Scegli la missione di cui occuparti personalmente e quale affidare a Olivier. Scegli con cura, non puoi completare più di una missione al giorno. Ok, ganso. E' vero. Da qui tutto lo vedo. Uno non ti capisci. Ma ci sono altri che ti aiutano. Va bene. Non lo so, 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 non lo so. Non parlare, non lo so. Io devo parlare con i signori qua, perfetto. Quindi, signori, che dirvi? Io vi ringrazio per essere rimasti qua fino alla fine, in questo vi ho detto da una mezzorina. Probabilmente ne registrerò qualcun altro così da vedere effettivamente anche com'è il gioco. Peccato che non posso fare live perché sarebbe tutto molto più facile. Invece qua c'è da fare il video, quindi registrarlo, problemi di registrazione con sto BS, montarlo, renderizzarlo, aspettare ad andare al lavoro e caricarlo. E quindi è tutto molto più legnoso, un sistema molto bruzzino e palloso. Però, però ce lo facciamo, lo facciamo, ce lo facciamo, sì, 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 sì. Quindi niente, signorini, dai, grazie per essere rimasti fino alla fine, vi ricordo in descrizione sempre il codice scontro del 5% sui vostri server. G-Portal, ah, e un'altra cosa che avrei dovuto dire all'inizio, ma mi è venuta in mente ora, devo anche riprendere un po' il via magari a parlarvi delle cose importanti all'inizio. C'è un Discord che vi lascio in descrizione, che è Disargency Sandstorm, italiano, così se vi interessa per, se volete trovare qualcuno con cui giocare le competitive o, insomma, avere qualcuno, un compagnolo con cui giocare, fateci un salto. Quindi nulla, signorini, magari anche voi fatemi sapere se vi potrebbe piacere come serie, in più ho sbloccato pure il super grazie, che è tipo un affare in cui teoricamente commentate, donate, rimane lì fisso. È tipo una super chat per le live, ma per i commenti, è una cosa strana. Comunque me l'hanno attivata in, in anteprima, quindi fico ogni tanto avere le cose in anteprima. Quindi nulla, dai, davvero, questa volta vi lascio e dai, ci si vede nel prossimo video, osso, che spero di farlo presto. Ciao belli! Ciao! 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 Ciao!